Per iniziare, solleva la linguetta sul lato del dispositivo e connetti l'alimentatore. Collega il caricabatterie alla presa di corrente e metti in carica il dispositivo fino al 100%. Inserisci la fascia negli appositi fori del solenoide, facendola passare dall'interno verso l'esterno. Dovrai posizionare l'applicatore sulla sede da trattare, fissando la fascia con il velcro. Ecco un esempio di applicazione. Assicura la fascia senza stringere eccessivamente. Connetti il solenoide alla presa del dispositivo. Tieni premuto il pulsante centrale e inizia la terapia. Il conto alla rovescia sullo schermo indica il tempo di terapia restante. La luce verde lampeggiante indica che la terapia è in corso. Dopo qualche secondo, il display si spegne, ma la terapia prosegue. Premi il pulsante centrale per riaccendere lo schermo. Per mettere in pausa il trattamento, premi l'icona pausa sullo schermo. Premi l'icona play per riprendere la terapia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.